Quando si parte a inizi estate, che poi non è mai una data precisa, può essere anche un evento dove ti parte l'idea, dove nasce tutto, da quel giorno fino alla data del capannone, cioè il primo giorno che tu esci fuori dal capannone, neanche quando la si realizza, quando esci fuori dal capannone dici, bene, ho realizzato, abbiamo realizzato qualcosa che prima non c'era e non ci sarà più. Sono Marino Guarnieri, faccio parte del gruppo dell'associazione Cartapestando, questo è il secondo anno che collaboro con questo gruppo. Sono un appassionato della cartapesta, cioè avendo famiglia che è sempre stata vicina al carnevale di Putignano, mio padre comunque da piccolino mi portava sempre negli hangar e quindi a vedere i carri, raggiunta quella che è l'età utile per cominciare a fare qualche manufatto in cartapesta, bene, allora io mi messi là e disse ok, voglio fare qualcosa. Ci sono statistiche che dimostrano che il 15% della popolazione mondiale ancora è analfabeta, la maggior parte sono donne. Tutto questo non può che essere una mostruosità perché non per l'essere ignorante quanto per ciò che causa l'ignoranza, che è tutto quello che sappiamo, la soppressione, la schiavitù, la manipolazione. E forse anche in Italia questo si paga, cioè l'ignoranza in questo caso ce n'è poca però ci sono alcune materie in cui noi italiani avremmo da imparare tantissimo anche perché prima di sollevare le nostre opinioni dovremmo conoscere, dovremmo capire, dovremmo informarci. Abbiamo poco da invidiare, abbiamo tantissimo da offrire agli altri. e dobbiamo cominciare a prendere coscienza e a diventare orgogliosi del nostro carnevale. Carnevale perché affonda radici storiche, affonda radici importanti. Carnevale di Cudignano che è comunque organizzato e vissuto da persone capaci, non sono sicuramente persone che stanno lì ad improvvisare, lavorano duro affinché la bellezza del carnevale non vada persa. Il putignano sicuramente in questi anni si sta distinguendo proprio perché è vero che magari ci sono difficoltà nel far avvicinare ragazzi giovani, ci sono tantissime difficoltà dal punto di vista proprio burocratico, però è anche vero che sta formando diverse figure e soprattutto sta dando anche forse degli spazi lavorativi, cosa che fino a 5-6 anni fa non era pensabile fare il cartapestaio. A Putignano poi il cartapestaio era visto prettamente persona che lavorava per il carnevale di Putignano. Mia moglie disse o il carnevale o me. Dice il carnevale.